Si trovano ancora ricoverate in gravissimi condizioni le due donne che nel pomeriggio di ieri sono state investite in via per Frosinone a Ceccano. L'incidente si è registrato poco dopo le 18, quando le due miche stavano attraversando la strada e sono state prese in pieno da una reno scenic. Entrambe le donne, di 60 e 64 anni, lavorano nel settore sanitario, una impiegata presso gli uffici della ASL e l'altra al pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. E proprio allo Spaziani è ricoverata quest'ultima, mentre la prima, viste le gravissime condizioni, è stata intubata e immediatamente trasferita presso il policlinico Umberto I di Roma. L'uomo che era alla guida dell'auto e che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, è stato colto anche egli da malore e ricoverato presso l'ospedale del capoluogo.